Un ragazzo, come fa ad essere sicuro a 13-14 anni che quello sia effettivamente il suo percorso? Come possiamo aiutarlo Paolo? Non dobbiamo avere fretta di capire. Io credo che a volte i genitori si intignano eccessivamente nel voler capire, prevedere, si preoccupano di cosa faranno. Adesso le cose sono molto, da un certo punto di vista, molto più complicate rispetto a quando io ero ragazzo e per certi altri versi straordinariamente più ricche. Perché quando mi si dice, ah adesso stiamo consegnando ai nostri figli un mondo peggiore di quello che... queste cose un po' così, un po' rettoliche, devo dire la verità. Ma di cosa stiamo parlando? Non lo so. Cioè io non c'avevo Rainer. A 18 anni non c'avevo. Non c'avevo internet. Non c'avevo neanche tanti soldi. Non c'avevo neanche tutta questa libertà. Ora i ragazzi hanno soldi, internet, libertà. Rainer. E cosa vuoi di più? Goditela. Cioè si è allungato il periodo di formazione. Non è un delitto. Perché viviamo 90 anni. Quando mio papà è nato c'era un'aspettativa di vita di 50. Adesso siamo quasi al doppio. Quindi se tutto si allunga, eh prendiamocela un attimo. Perché se no si allunga tutto per fare 40 anni di pensione. E poi come diceva Woody Allen, ho smesso di fumare, vivrò un mese di più e pioverà sempre. E quindi bisogna, no, diluire questa cosa. Bisogna pensare alla vita in termini molto diversi. Oggi un uomo di 60 anni, una donna di 60 anni, sono giovani. A tempi di mia mamma, la nonna aveva 60 anni e era vicino al cimitero. Mi ha fatto riflettere il fatto che l'Istat fino all'anno scorso definiva giovane un ragazzo fino a 30 anni. E ora è fino a 35 se è giovani. E si entra nella terza età dopo non più i 60, ma i 65. Quindi certo tutto il nostro crescere è più rallentato. Infatti io ho qualche riserva personale all'idea della pensione a tutti i costi. Per carità, i lavori usuranti, ovvio che sì, ci mancherebbe altro. Però anche lì stiamo andando verso un mondo in cui i lavori usuranti, per fortuna, sottolineato per fortuna, sono sempre di meno, perché li fanno i robot. La verniciatura delle macchine, una volta si faceva a mano a Mirafiori. Si moriva perché si inalava per anni e anni e anni nube tossiche. Oggi, io mi ricordo ancora tanti anni fa quando andai a Melfi, a un stabilimento Fiat, c'erano signori, potrei dire signori, perché comandavano dei robot già allora. Quindi o noi decidiamo che abbiamo sbagliato tutto, e non credo, o ci stiamo avvicinando ad un mondo, se vogliamo parlare di futuro, ad un mondo in cui una buona parte del lavoro manuale sarà robotizzato, banca mondiale, non Paolo Crepe, banca mondiale. Ogni anno perdiamo nel mondo occidentale 5 milioni di posti di lavoro e ne guadagniamo 2. Questo è. Perdiamo 5 milioni di posti di lavoro medio-bassi, ne guadagniamo 2 medio-alti. Anche più creativi, anche più di soddisfazione. Creativi, l'ingegnere elettronico, piuttosto che non so come chiamare, lo volete chiamare, sono tutta una serie di cose che necessitano, qui si arriva al dunque della serata, necessitano una formazione totalmente diversa, totalmente diversa, perché devi alzare l'asticella, perché tanto quell'altra cosa l'ha, e poi dovremmo anche capire che cosa succede. Vi faccio un altro esempio. Allora, adesso noi siamo bombardati da pubblicità di macchine elettriche, quindi sembra che ci sia una sola via di sviluppo nel mondo dell'automobile. Io ho qualche dubbio, ma questo mi ho... Allora, c'è un problema però. Il motore elettrico, rispetto al motore a scoppio, necessita meno operai. Allora, Volkswagen conta che il 30% di quelli che lavoravano al motore a scoppio, domani non lavoreranno. Andiamo verso questo. Io credo che poi molta parte di questo sarà anche questa robotizzata. I big data servono a questo. Quindi faremo delle sempre più macchine tailored, cosiddette. Guardate che lo sto inventando delle cose, che leggo, mi informo, studio. La nuova linea Maserati che sarà... È interessante. Io faccio l'economista e parlo da cose che non so. Sto pensando dal mio punto di vista psicosociale. Mirafiori. Maserati andrà lì. Benissimo. Saranno tutte macchine che verranno costruite su domanda. Allora, questo cambierà il mondo. Cambia. Bisogna... Ci vuole, come posso dire, ci vuole molta testa. Sta già cambiando moltissimo. Come non perdere quel sapere, quella manualità, quella ingegnarsi nelle piccole cose? Anche su questo, una questione complicata quando si vuole semplificare, facciamo un errore. Allora, sono state nominate tutta una serie di competenze manuali che sono in conflitto con un'altra tendenza, che sono le stampanti 3D. Vicino a Padova, dico cose che probabilmente sapete, c'è un'azienda che fa case in 3D. Case, avete capito bene, case. Cioè, case tutte pronte. Ovviamente, meno le rifiniture. Sono case che oggi vengono vendute in Africa o nei paesi che ne hanno bisogno, ma perché no, domani potrebbero essere anche case anche per noi. Cosa vuol dire questo? Che disperante? No. E che l'artigianato vale e varrà sempre di più, soprattutto da noi, se è di altissima qualità. l'artigianato, quello basico, è inutile. È la storia... Guardate, io sono qui ospite degli artigiani. Io 15 anni fa ho fatto per gli artigiani, mi sono inventato la scuola per genitori, che era organizzata a Vicenza. Va bene? Abbiamo avuto 36 scuole per genitori in Italia, quindi vuol dire migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di genitori. Abbiamo fatto una bellissima cosa e credo che la Confortigianato abbia molto apprezzato questo. Quindi, essendo io stato molto tempo a Vicenza, ho conosciuto la crisi dell'oro. La crisi dell'oro, mi dico cose che voi sapete e poi mi fermate, era legata al fatto che, come si dice in suono veneto, se faceva caene, si facevano catene, nel senso che negli anni 60-70, bravi, molto, molto avanti, avevano capito che bisognava fare queste robe e facevano chilometri e chilometri di catene. Perché? Semplice, c'erano le prime comunioni e c'era gente che si sposava. Adesso, prime comunioni ce n'è molte meno, la gente che si sposa è molto meno, le prime comunioni si fanno meno non perché siano diventati altri, perché ci sono meno bambini. Le catene hanno cominciato a farli turchi a metà del prezzo. Dopodiché, hanno scoperto che c'erano i cinesi che facevano le catene a metà del prezzo dei turchi. E tu cosa fai? Vai fuori mercato. Se sai fare solo quello, vai fuori mercato. A meno che non sei pomelato. A meno che non cambi totalmente rimanendo nell'alveo di quel fiume, ma non cambi totalmente visione, capacità, formazione, inventiva e ci vuole tanto coraggio, e ti metti in una cosa di altissimo livello che sai fare solo tu e che gli altri difficilmente faccio un esempio. Io conosco molto bene il direttore di Gucci. Il direttore di Gucci, il direttore artistico di Gucci, quando è diventato direttore, è un signore che ha vinto due premi Oscar per la moda in un anno. Si chiama Alessandro Michele. Una sorta di lume della cosa. Benissimo, sapete cosa ha fatto chiacchierando con l'amministratore delegato? Appena diventato direttore artistico, gli ha detto all'amministratore delegato, io ho un'idea, se che non è un'idea, o è così o è pomì. Cioè non si fa più niente in Cina. Cosa vuol dire? Si fa tutto in Italia. Le borse, le borse, le lampo, soprattutto le lampo. Perché? Perché le lampo in Italia sono cento volte meglio di quelle altre. Non è un'offesa per i cinesi, però è la realtà. L'amministratore delegato dice sì, bellissima idea. E i numeri? E i numeri? Semplice. La borsetta rosa è qualcosa, ne facciamo 560 invece che 3000. Le donne del mondo impazziranno perché è unica e alzi il prezzo. Risultato? Domandatelo a Messier Pinot che forse aveva dei dubbi. Così? Adesso San Michele fa così. Si alza però la strada. Eh beh certo, ma perché? Perché noi abbiamo il cuoio di Santa Croce sull'Arno e anche di Vicenza. Abbiamo le scarpe a Stra o anche a Firenze. Su tutto ho studiato. Le calze da uomo. C'è uno pazzesco, bravo, molto. Quanto costano? 200 euro. E non so, voi dite è lusso. Beh certo, ma ci si salva così. Oggi sull'inserto del Corriere c'è un bellissimo ritratto di Tom Ford fatto da suo marito. Con cui Alessandro ha lavorato. Esatto, Tom Ford era un genio. Assoluto. Allora, noi non possiamo sperare che tutti i nostri figli siano geni e che riesce però potresti però vedi scusa che ti interrompo Alessandro Michele viene da una no perché se no non ci capiamo viene da una periferia della periferia di Roma e lui lo dice con grande orgoglio un padre straordinario genialoide ma periferia della periferia complicato da lì arrivare agli Howard molto complicato è giusto dire non tutti ci arrivano ho capito ma non tutti sono anche dei bravi chirurghi e anche non tutti sono bravi psichiatri non basta essere laureati specializzati in psichiatria per essere dei bravi psichiatri così come non basta essere laureati in matematica per essere bravi insegnati in matematica quindi o le cose sono complicate o sono sceme secondo me quindi che non tutti ce la facciano questo non vuol dire che non tutti ci debbano provare tu ci devi provare ma scusate ma ve lo dico a voi a San Michele cosa ci avete voi una scuola di eccellenza del vino non una scuola così per venderlo scusate al terzo supermercato voi volete produrre vino che una bottiglia costa e dietro quel costo c'è sapere coraggio innovazione marketing pubblicità capacità di andarlo a vendere mamma mia ma cosa ce lo dicono a noi ma io ho conosciuto nonnino signora nonnino è riuscita a vendere la grappa ai russi che è come dire vende un ghiacciolo un eschimese non sarà mica una così perché ma com'è che l'ha vinto sulla vodka quindi c'aveva una vodka quasi gratis come hai fatto la qualità la qualità ma anche la tenacia perché Gianola Nonnino è una donna unica ma non è unica è una che ci ha provato sì ho capito è unica nella grappa però però se no se stiamo tutti comodi il problema qual è diciamo la cosa perché io non sono qui per dire nascondemi dietro un dito ah il problema non è la signora Nonnino il problema è il giovanotto o giovanotta che sta orizzontale sul divano perché è per questo che io ho fatto la scuola per genitori perché la prima sera che io mi hanno inventato mi ha invitato gli artigiani adesso non me lo meraviglia più allora mi ero meravigliato come mai gli artigiani chiamano me e l'ho capito a cena quando mi hanno detto varie persone sa io avrei un'età avrei fatto l'impresa sarei anche stanchetto vorrei quasi lasciare il mio figlio se lascio tutto il mio figlio tra sei mesi non c'è più non il figlio l'azienda io ho detto ma non è colpa dei cinesi questo e no è colpa del salotto allora scusate o ci mettiamo d'accordo su questo questo giochetto qui sapete cosa vuol dire perché di questo se ne dovrebbe occupare il ministro dell'economia e non se ne è mai occupato questo giochetto credo che abbia anche degli altri pensieri anche questo dovrebbe avere perché questa cosa qua vuol dire che un terzo un terzo delle aziende e vi dico cose che sapete a memoria ma le dico un terzo delle aziende nel momento di passaggio generazionale muore un terzo che vuol dire che o vendi se c'è qualcuno che ti compra o chiudi cosa vuol dire migliaia di posti di lavoro migliaia di know-how brevetti buttati a chiunque una storia civile di lavoro della nostra terra questo non vale molto per il nord-est ma vogliamo parlare del distretto del bianco delle marche come è andato a finire dai frigoriferi al nulla e lo sappiamo benissimo perché non c'è bisogno di fare nomi e cognomi e questa è la storia purtroppo perché perché ah non lo so perché immagino che sia per una sorta di maldestra educazione quindi il problema è nostro è certo che è nostro non siamo riusciti a tirar su i figli male malissimo ma siamo stati cattivi genitori dove abbiamo sbagliato qual è l'errore dall'inizio da subito dalla culla perché alla culla se voi vedete una culla sopra ci sono sette otto robe che girano le api eh no le farfalle non è neanche aperto gli occhi che c'è tutto sto casino davanti e poi c'è la mamma che vuole che sia riconosciuta invece che la zia cioè un tempo il bambino appena era messo in un angolo dove c'erano sette otto played perché faceva anche freddo in casa ed era silenzio adesso è una discoteca poi vi chiedete perché fanno l'after hour sono nati con la discoteca e continuano e poveracci cosa volete fare vogliete star calmi volete darvi una regolata un bambino non ha bisogno di niente a parte mangiare ma che ma che gattoni ma dove va va mamma mia quella vaporella a pulire tutti tutti i pavimenti perché se no muore di microbi mamma mia ma viva la cacchetta delle galline è ottima è un anticorpo naturale no non lo dico perché una volta si giocava nell'aia non sono battute si giocava in un'aia non si giocava in un reparto di rianimazione sterile è chiaro no? è chiarissimo però sono mutate le condizioni un tempo ma non è è diminuita l'intelligenza abbia pazienza è diminuita l'intelligenza quando quando c'è stata la dad che è una roba gigante un genio io vorrei sapere il primo che ha nominato la dad perché lo voglio lo voglio incontrare lo voglio abbracciare perché una roba così era incredibile vabbè abbiamo scoperto che bisognava aprire le finestre vi dico una cosa complicata che nella scuola bisognava aprire delle finestre abbiamo scoperto quanti istituti erano inchiodate dovevi chiamare il falegname per aprire sta finestra e apri sta finestra no perché prende freddo ma chi? giovanotto alto 1,90 che a 16 anni adesso hanno 1,90 prende freddo anche quello e prenderà freddo cosa vuoi che ti dica io? non si apre la cosa ma è bellissimo veder nevicare fuori aprendo una finestra è una cosa anche chic invece tutti tutti dentro con riscaldamenti a palla perché se no chissà cosa succede non so anche il cervello io credo che non si nutre bene da sta idiozia totale allora bisogna riportare le cose adesso arrivano 4 miliardi per la scuola 4 miliardi io ho scritto a maggio al ministro perché me l'ha chiesto non perché io scrivo al ministro dell'istruzione così non l'ho mai fatto però ci siamo incontrati mi ha chiesto una cosa io mi ha detto cosa facciamo delle scuole ha delle idee mi ha detto gliene butto giù due o tre il primo documento poi ho visto che nessuno leggeva ho evitato il secondo e il terzo il primo era facciamo una cosa scuole medie superiori tutti i licei aboliti tutte le altre cose l'istituto tecnico liceo tecnico perché così evitiamo che i figli no della buona borghesia devono andare tutti al classico no che è l'anticamera del nulla no perché cosa fai dopo il classico ti devi scrivere al classico punto due che è l'università per poi iscriverti al classico punto tre che sono dei corsi i posti perché non finiscono poi finalmente a 35 36 anni dici cosa faccio è chiaro che c'è un problema allora facciamo una cosa paritaria tutto tutto cosa l'alberghiero liceo liceo alberghiero tutto liceo così evitiamo scontri sociali perché un certo tipo di ragazzo va di qua e un altro va di là che non è vero che non è vero e poi diamo valore però bisogna avere coraggio perché se io vado a Udine nell'istituto tecnico che aveva era la più grande vocazione italiana di falegnameria visto che avete parlato di falegnami per la semplice ragione che era attaccato al triangolo della sedia spero che qualcuno sappia che cos'era vendeva l'80% delle sedie del mondo è chiaro prima di Ikea giusto? lo faceva sì sa con cosa è stato chiuso sa che cosa vuole avere dei brividi è stato è nato l'istituto tecnico per estetiste cioè dal falegno io non ce l'ho con gli estetiste per l'amor di Dio ma così tante è perché adesso anche i maschi vanno dell'estetista e quindi bisogna raddoppiare sì no per carità non mi faccio fare battutoni se poi devi andare a fare il tronista è certo che devi andare dell'estetista è logico non c'è speranza non c'è nessuna speranza allora perché non dare però anche lì cosa facciamo la sedia ma se la sedia la puoi fare con la cosa che c'è un problema di brevetti voi sapete che c'è anche un problema enorme di brevetti perché io posso prendere la sedia di Gioponti 1954 e rifarla uguale e non pago quella vera rifatta dai vari Cassina piuttosto che non so chi va bene così no non va bene così quindi c'è anche un problema giuridico però io sto dicendo per esempio chi è che sa restaurare il legno nessuno restaurare il legno vuol dire scusate io ne so qualcosa perché sono dentro l'arte da una vita passata di tre generazioni restaurare il legno vuol dire mantenere la patina una patina del 600 una delle cose più difficili da mantenere se sapete cosa sto dicendo sapete cosa sto dicendo facile fare il decapato quello lo fa anche mia zia perché legge sui sui no per legge su qualsiasi settimanale fai da te il decapato ma quello è un'altra cosa se tu vuoi mettere a posto il coro della chiesa di non so chi 1650 è quello ci vuole la mano dove come sapete quanti escono dall'istituto nazionale del restauro avete un'idea 10 12 con gli stranieri non è un problema siamo seduti sull'arte non mi pare che sia una cosa secondaria a me sembrerebbe una cosa primaria questo vale per il restauro architettonico vale per il restauro degli interni come si mette a posto un maso non ci può andare chiunque sono secoli di storia ci vuole rispetto ma ci vuole anche la mano e se l'ultimo dei restauratori muore senza allievi chi chiamiamo facciamo un altro giro andiamo a Cremona andate nelle botteghe degli utai chi incontrate cinesi cinesi non italiani ma io dico ma li abbiamo fatti noi inventati noi i violini un guarniere del Gesù costa milioni all'asta e non c'è nessuno ma qual è il retropensiero per cui un ragazzo viene scoraggiato a fare il liutaio perché prende le schegge cioè qual è il pericolo per il genitore italico no ditemelo per l'amor di Dio che con i violini si muore no perché sarà per questo perché come mai ci sono i cinesi non ci sono gli italiani non venitemi a dire che non si guadagna facendo il liutaio perché vi ci porto io in alcune botteghe e vediamo cosa vuol dire non il guarniere del Gesù per l'amor di Dio magari ma sto dicendo un buon violino della metà ottocento se lo sapete mettere bene a posto occhio orecchio tatto io li ho visti toccano il legno come si tocca una signora con la stessa emozione con la stessa passione però anche lì bisogna tornare alla culla date troppo se si dà troppo se si dà troppo non viene il desiderio il desiderio è di ciò che non hai è così semplice più dai meno desiderio meno desiderio meno passione meno passione meno progetto come fai a buttarti in un'impresa mentale sto dicendo prima che è reale se non hai una passione non ce la fai se poi ti dicono che tu faccia che non faccia è uguale e allora diventa tutto molto difficile perché questa idea che uno uguale a uno è un suicidio sociale uno uguale a uno una bestemmia detta a San Pietro uno uguale a uno cosa vuol dire? ma cosa vuol dire? io non lo so sono assolutamente d'accordo che ognuno è diverso ogni figlio è una storia a sé ha una vocazione ed è vero che noi non dobbiamo aspettarci che i figli ci somiglino perché noi forse partiamo dal presupposto che avendo cresciute figli in un certo modo seguono anche le nostre inclinazioni io non so cosa abbia deciso di fare tua figlia non so quanto abbia chiesto i tuoi consigli non so quanto tu abbia sottratto per renderla una donna matura e indipendente ma ti chiedo in che modo hai cercato di aiutarla o di fare in modo che lei trovasse la sua strada che tipo di genitore sei stato quali errori perché tutti ne commettiamo non rifaresti e che cosa consigli a noi genitori che tanto abbiamo sbagliato per lasciare crescere il talento e la passione nei nostri ragazzi errori ovvio come dire che respiriamo qualcosa credo di non avere sbagliato molto per esempio io non sono mai andato dagli insegnanti di mia figlia non sapevo non saprei non avrei mai saputo cosa chiedere un insegnante ma forse perché sei troppo no anche se mia figlia faceva le scene dal teatro greco che quella di italiano mi ha strafitto il cuore è una bestia una nazista eccetera eccetera io ho detto secondo me è perfetta è proprio vedrai no ma è stato sono stato facile profeta gli ho detto vedrai che è severa così perché non è nazista ma è severa perché ha capito che hai talento e quindi quando vedi il talento devi essere severo non puoi fare il buonista perché uccidi il talento quindi adesso soffri tra cinque anni godrai di quella formazione che ti ha dato quella signora quindi a io ho sempre rispettato gli insegnanti per la semplice ragione che i miei genitori hanno sempre rispettato i miei insegnanti anche quando mi hanno dato tre due uno sono riuscito a prendere anche uno ho visto un filmato uno in matematica sono orgogliosissimo in cui era straordinario perché mio padre è stato straordinario perché gli ha fatto i complimenti sì mi ha detto una roba del genere uno ci vuoi il talento ci vuoi un gran talento perché tutti prendono quattro invece te uno ti sei impegnato moltissimo quindi io questa roba qua sono passati non so quanti decenni però me la ricordo come insegnamento di vita cioè l'ironia per un genitore è fondamentale perché se li prendiamo tutti sul serio è la fine invece appunto quando hai il figlio il figlio se la cava ma perché non se la deve cavare se la cava con quello con l'insegnante più mediocre con quello più esigente con quello più bravo con quello che tanto fai furbo ce la fai sono le varie specifiche della vita se non le impari da ragazzo da ragazza poi non le sai fare più avanti quindi cosa poi ho detto a mia figlia è una cosa sola non fare la psichiatra mai cioè tutto quello che comincia per psi anche psicotica evitiamo meno male è quello lo evitiamo psicologi psicoterapeuti psichiatri evitiamo perché perché so quanto è difficile perché mio padre era una persona importante per me anche ingombrante e io un giorno della mia vita per fortuna ho detto arrivederci e grazie ma non perché non li volessi bene non perché anzi lo amavo profondamente ma proprio perché lo amavo non potevo sopportare che qualcuno mi dissesse crepe parentedi io quando sentivo parentedi scappavo perché mi dava un fastidio perché io dovevo per forza dimostrare a me stesso a me stesso olio e limone al naturale di Valere e questa è stata la mia battaglia che dura oggi perché io vado al mio editore dopo 37 38 libri e ancora sono tremebondo non so di non sapere so di non aver scritto bene io non riguardo mai le cose che ho fatto in televisione ho fatto non so quante per l'amor di dio se volete farmi digerire male fatemi vedere crepea in televisione perché trovo tutti i due i cosi e pure crepea racconteso ma non sapevo fare niente mi ha insegnato qualcuno Paolo Limiti è stato un grande maestro per me anche il tuo ex direttore Mimun perché era difficile ti dicevo prima 40 secondi il Tg2 in diretta 40 secondi era fantastico io l'ho odiato però poi ho detto ma questo è bravo sul serio perché in 40 secondi tu devi saper comunicare 40 secondi puoi dire sai l'ultima cosa che ho fatto per voi il Tg2 la cosa dei sassi di Tortona me lo ricordo ancora 40 secondi su una tragedia era morta una donna non è che si parlava di 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 Taralucevino e quando hanno smesso di tirare i sassi quando abbiamo deciso che non bisognava più parlarne certo l'emulazione come no come no infatti poi ho cominciato da un'altra parte perché purtroppo le tragedie non sono mai finite ma però ecco allora questa cosa qua di essere esempio ma non non pretendere di essere maestro il maestro si vede in fondo alla vita perché quando cominci poi a capire ci sono persone che hai sopravvalutato ci sono persone che hai fortemente sottovalutato e questo te lo dice la vita non puoi saperlo a 20 anni a 30 a 40 ce ne deve passare di acqua sotto il ponte e allora ai ragazzi ai figli vieni a dire ti do una brutta notizia sei bravo e quindi ti arrangi perché se sei bravo non ti devo aiutare perché io aiuto uno che non è bravo no quindi la figlia l'hai lasciata nuotare nel suo mare aperto senza no ma ma non per cattiveria perché guarda io ho sempre sperato fin da io ho avuto anche delle visioni adesso penserete che sono un po' pazzo ma io ho avuto delle visioni su mia figlia cioè io sono sempre immaginato giovane donna come è adesso ho sempre cercato di immaginarmela così perché perché l'età evolutiva per me è sempre stato un passaggio che doveva avvenire presto no i brufoli cioè non sono cose belle brufolini isterismi primi amori per l'amor di Dio cose terrificanti cioè bisogna che passino che ci siano tutte bisogna avere tutti i brufoli i quattro in italiano il moroso che ti lascia necessario come l'aria che respiri dopodiché finalmente approdi al nuovo mondo il nuovo mondo è la giovinezza nel senso pieno della parola pieno della forza perché è lì che cominci veramente ad apprendere prima sono le aste le prove di vita prove libere prove sì però poi a un certo punto c'è un click invisibile nella vita ma c'è c'è un click che ti fa prodare a qualche cosa però bisogna capire già qual è la tua barca se sai navigare se hai fatto qualche naufragio utile ti sei ripreso e tutte queste cose qua necessitano anche tempo da parte di un genitore anche molta pazienza molta coerenza noi dobbiamo avere un enorme coraggio nel credere in loro enorme ma proprio perché non li aiutiamo io voglio vedere cosa farà lei davvero perché se mi ci metto io è come una fotografia sfocata certo non so se riesco a spiegarmi come no è chiarissimo che non è abbandono non è abbandono io sono un osservatore anche dei tacchi che c'ha io guardo tutto ma lei non se ne accorge io guardo tutto però non dico niente quindi non commenti e dove no commento beh sì qualcosina sì beh alcuni fidanzati erano il papà era una roba su uno andrà bene io ogni volta dicevo a me stesso sta buono sta buono a sapere dopo ce n'è stato uno che è stato approvato sì ma no ma vanno tutti bene perché sono al passato quindi avanti con i carri avanti no ma io non lo dico perché ma perché è così perché anch'io ho fatto tutti i miei errori io mi ricordo una volta sono andato anche dal mio papà che era qua in montagna veniva sempre da queste parti qua mio papà e mia mamma e io ho detto ah adesso mi sposo silenzio poi dopo un po' un lunghissimo silenzio che sarà stato un minuto mio padre mi ha detto prima ti laurei ciao e così è stato e io lì ho capito perché avrei potuto fare quello che volevo no perché uno scappa in qualche isola tropicale lo fa lo stesso però ho detto me lo ricordo c'era l'R4 sono tornato giù di qua passavo sempre per Trento perché poi andavo giù verso il Veneto e dicevo però secondo me hai ragione mi dà fastidio devo comunicare a signorina che dobbiamo aspettare e aspettare un po' dopodiché ovviamente il logorio ha fatto il suo lavoro quindi mi sono laureato single però era passata la passione era quello l'intendimento però io penso che sia bello questo raccontare anche di una certa non so anche di questa certa sobrietà genitoriale no che io non ho mai sentito urlare io sono cresciuto con questa idea che mio padre fosse il giudice e mia madre fosse il boia aiuto funzionava così cioè mio padre determinava la pena e io ne avevo bisogno di quella pena perché provocavo quella pena io lo ricordo lucidamente come tutti gli adolescenti perché ribelle eh ma per molto ribelli io non fai di tutti i colori ma proprio per vedere se c'era qualcuno che si accorgeva di me cioè io non vedevo l'ora l'ora e quindi vedere il limite e riconoscere e andare a estigare i genitori per capire qual era il limite entro il quale certo certo è un po' come no è un po' come allora una volta qualcuno conosce bene Padova immagino di sì Palazzo della Ragione avete un'idea no? beh io da un po' di anni frequento Lorenzo Piano per varie vicende una volta eravamo a Palazzo della Ragione perché si inaugurava una sua bellissima mostra con tutti i suoi progetti eccetera eccetera e allora stavamo lì in attesa che arrivassero le autorità eravamo andati un po' prima e gli dico ma scusate ma questo è stato fatto più o meno alla fine del Trecento quanto è grande lui è preciso come un collo beh voi lo sapete ha fatto uno dei più bei musei che è qua secondo me il museo della montagna è strepitoso non so cosa ne pensate voi ma è strepitoso e lui ha detto beh sì effettivamente adesso non so credo che siano 80 metri per 30 e come fa a stare su sta cosa come facevano e lui mi ha spiegato questa cosa che è bellissima molto metaforica che la teoria della crisi cioè tu non avendo compiuto non avevi niente non avevi neanche i calcoli non si potevi fare niente l'unica cosa che potevi fare è vedere quanto teneva quel muro e quindi dovevi sfidare una legge che non conoscevi se non empiricamente perché a un certo punto crollava ed è lì che l'architetto voleva arrivare riesco a spiegarmi perché lì teneva 10 cm su no e allora bisogna fermarsi là e lì comincia la volta non so se riesco a spiegarmi è una cosa prodigiosa meravigliosa fine 1300 tutta di legno allora ecco la metafora noi dobbiamo in qualche modo lasciare che i nostri figli conoscano la crisi cioè devono sapere ecco perché ci sono i no ecco perché ci sono le regole perché c'è come nelle vasche da bagno c'è un troppo pieno e il troppo pieno è troppo pieno ognuno ce l'ha dove vuole lui ogni genitore decide dove metterlo se lo volete mettere a due metri fate un po' io manterei bassino perché capisci e lo capisci per il tuo bene perché è come sellare un cavallo selvatico lo fai per il suo bene non per il gusto di dominarlo perché quel cavallo sellato riconoscerà quei limiti dati dal domatore e non farà quel salto più grande delle sue gambe e non se le spezzerà e non morirà allora noi non dobbiamo decidere per loro primo e non dobbiamo neanche mettergli fretta di decidere però però questo tu stai parlando del software e l'hardware cos'è? l'hardware solo che se torni a mezzanotte e 10 invece che a mezzanotte è il Vietnam e cioè li chiudi in casa? poi dentro l'hardware fai come ti pare cioè il software ma l'hardware no cioè l'hardware non so come ragionate voi ma portare come ho visto io una ragazzina di 13-14 anni in discoteca alle 11 e mezza di sera qui sfioriamo proprio non so io come lo chiamate il mononeuronale ma perché? perché così fan tutti eh mamma mia solo Mozart lo poteva dire solo Mozart gli altri anche no così fan tutti cosa vuol dire? allora gli dai la cocaina a 15 anni perché se è per quello ci sono un sacco di ragazzine ragazzine che prendono cocaina a 15 anni non lo sapete? e allora siete prego gliela portate voi ma perché un genitore deve fare il pusher? si può fare anche qualcosa di più elevato o ci dobbiamo andare proprio a livello stradale? io perché devo dare dei soldi a un ragazzino sapendo che va a finire in alcol e droga capisco che si produce vino da queste parti vogliamo evitare l'alcolismo giovanile? non sto scherzando io una volta sono venuto qui in questa regione in una vallata dove era morto un ragazzo dopo un concerto non mi ricordo in quale paese dentro la valle perché avevano bevuto come Giannizzeri e poi con le moto erano venute giù e uno ha fatto una curva più lunga potevamo evitare o no o fa parte del politicamente corretto perché così fanno tutti assa che i fassa ma cos'è un genitore lascia che facciano e allora andiamo andiamo in Svizzera scusa se dobbiamo esserci per non esserci tanto vale non esserci o anzi consiglio non facciamo figli già siamo 1.2 facciamo uno sforzo e evitiamo di metterli al mondo per vederli dritti con la moto con 6 litri di birra non sto scherzando io ho lavorato con un sindaco tanti anni fa che voleva fare una cosa incredibile secondo lo stato italiano fare sì che nel suo nella sua città non si potesse bere cioè vendere alcol ai sotto sedicenni oggi è vietata che sarebbe anche prima sì sarebbe 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 se vogliamo fare un giretto se volete venire con me io giro io oggi quest'estate sono stato con un tuo collega invitato a un festival sotto Roma al Circeo e dopo lui mi ha detto guarda erano le undici e mezza della sera quattordici quindicenni figli della buona borghesia romana con le carte di credito where are you non vi vergognate di dare una carta di credito a quattordicenne a quale scopo di ucciderlo perché gli dai gli dai l'impressione che tutto si debba avere che tutto si debba pretendere che nulla si debba fare peggio di così lo diceva grande amministratore delegato della Fiat Marchione diceva una società in cui tutti i diritti superano i doveri è una società morta perfetto è così e questa è una massima che vale per noi per me vecchiotto per vale con adolescenti siamo tutti così i tuoi diritti sono una cosa i tuoi doveri sono ancora più importanti quindi bisogna ristabilire le regole essere guardiani diciamo di quel limite che decidiamo di imporre non farlo superare pena sanzioni severissime e in qualche modo lasciare che invece le loro scelte siano autonome che raggiungano loro il desiderio di intraprendere la strada e misurarsi e poi se sbagliano aiutano però per far questo tu capisci che ci vuole un coraggio del 90 eh sì tocco un altro argomento che stamattina è stato sfiorato dal governo italiano che si chiama salario di cittadinanza no perché io non ho paura di toccare gli argomenti ma siamo qua apposta allora io non ho nulla in contrario al salario di cittadinanza come fanno in Olanda voi sapete come fanno in Olanda allora tu ti iscrivi al collocamento dai la mail dai indichi un'area in cui tu vuoi lavorare più o meno e da quell'istante percepisci il denaro dallo Stato nel giro di alcune settimane non alcuni lustri alcune settimane ti arriva una prima mail in cui ti dicono cioè volevi fare ristorazione c'è una pizzeria a Bolzano e tu dici no perché è lontano benissimo la seconda mail è l'ultima o prendi o lasci ciao quasi come perché no perché no siamo vicini al nostro reddito di cittadinanza no è una menusura come costa un pacco di soldi perché costa un pacco di soldi perché mantenere per anni persone costa un pacco di soldi a 800 poi voi artigiani avete anche un problemino perché se poi devi trovare l'idraulico bisogna che vai in Bosnia se lo trovi questo non è un problema secondo me sì però se uno prende 800 euro al mese poi perché dovrebbe fare anche l'idraulico scusate per prendere 9,50 facciamo i ragionevoli questo è se è questo non va bene non funziona ma perché dobbiamo dare una cosa c'è un principio fondamentale dell'educazione che si chiama legge della reciprocità io faccio qualcosa per te se tu fai qualcosa per te stesso questo vale per il rapporto genitori figli e stato giovani è la stessa cosa ecco perché l'alternanza scuola e lavoro è una roba ovvia e meravigliosa io con i 4 miliardi che arrivano alla scuola farei anche un saltino in più per esempio farei scuola a tempo pieno da 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 0 a 18 anni se tu fai un istituto chiamiamo l'istituto liceo tecnico come chiamerei io in cui fai non so magari tre ore la mattina nell'azienda XY poi non è che siccome vai dall'azienda allora non studi più questo è un problema allora tu studi e poi c'hai anche un pomeriggio per recuperare certe materie oppure magari per tornare in quell'azienda a fare delle altre cose tu c'hai molto più spazio formativo in senso teorico e formativo in senso pratico perché non lo facciamo lo fa mezza Europa perché noi no allora il governo è diseducativo i genitori non sono in grado di mettere dei limiti e farli rispettare i figli e il governo è diseducativo come possiamo divertire la tendenza perché allora intanto siccome i genitori non ci sono perché lavorano giusto se uno lavora non è che torna alle due di pomeriggio quello è un lavoro part time se una donna che ha diritto a lavorare e un uomo che ha diritto a lavorare e hanno anche diritto a far figli poi ci vorrà qualcuno che ci pensa e quindi la scuola e questo invece non è dato perché la nonna magari ha anche la sciatica e quindi non può dire vabbè ma tanto c'è la nonna non si può dire così non possiamo fare i cialtroni con i giovani dobbiamo dare il meglio che abbiamo perché quello è il futuro ma scusate sono più importanti i giovani o le autostrade per quanto sia importante la Brenner o Modena eh però credo che il futuro dei giovani trentini sia più importante e allora diamo il meglio scusate una volta io non domando mai dove vado da sempre ho fatto migliaia di conferenze una volta vado a Monza non sapevo dove ero era anche inverno quindi era anche buio e quindi non ho visto però ho capito che era una scuola ho visto anche che il parterre di macchine non era niente male non c'era una panda a pagare neanche oro e quindi ho detto ma però ma in Monza c'è anche l'autodromo quindi eh si capisce bene e io parlo della scuola di queste cose qua perché è il mio pallino ci torno da quel libro lì di tantissimi anni fa bene alla fine il preside fa un rinfresco vedevo che c'era un certo un po' freddo e dico ma tutto bene sì sì no bene o no lei è venuto qua a dirci queste cose ma lei sa dove siamo dico no a Monza di più non so dai ma lei non sa in quale scuola è venuto a parlare dico giuro che non lo so perché noi facciamo quello che dice lei quindi sa un po' abbiamo risentito una minestra riscaldata dico mi dispiace tantissimo ma che scuola è questa non mi dica che lei non sa chi c'è qui no i figli di Berlusconi i figli di Berlusconi ma questa è una notizia fantastica vuol dire che un grande miliardario di questo si parla con rispetto parlando ha scelto per i propri figli questa scuola qui che dico io e allora facciamola per tutti no o no o per quattro facciamola per tutti se questo è un modello che funziona funziona perché tutti siamo d'accordo che questo modello funziona perché non dobbiamo replicarlo perché costa troppo perché perché non dobbiamo mettere un insegnante d'inglese dico una roba un po' azzardata che sa l'inglese una roba strana una roba strana una roba molto strana io sono andato tu non ci crederai io sono andato una vita fa sempre da un prete a Palermo pensavo no con pregiudizio da nordico la baraonda scuola elementare mi ero preparato col giubberto antiproiettile sono andato là un silenzio ho detto ma è sicuro che ci sono i bambini sì sì aperto c'erano dei bambini che ascoltavano un signore inglese solo l'inglese abbastanza per riconoscere che non era americano ma era inglese che parlava in inglese ai bambini e tutti i bambini dovevano rispondere in inglese in un quartiere periferico di Palermo cosa vuol dire che si può fare voi pensate che costi tanto cosa cos'è che costa tanto voi pensate che quel professore di inglese guadagnasse 9.800 più IVA no perché perché c'è una volontà ovviamente era una scuola privata aveva un limite di gestione diverso però aveva un'idea nella testa salviamo questi bambini salviamo il soldato Ryan come? dandogli una lingua che è la lingua del mondo dandogli cognizioni e poi dandogli una disciplina dico una roba da anteguerra sì una disciplina che vuol dire che quei bambini se volevano andare in gabinetto dovevano alzare la mano e quando era il loro turno dicevano non un bagno ma un toilette bathroom perché se no non andavi te la facevi addosso e impari a rispettare gli altri impari a rispettare gli altri perché tieni il tuo turno rispetti quel bambino che sta finendo di parlare non metti voce sopra voce pensate quante piccole straordinarie rivoluzioni positive capite solo per la volontà di un uomo come Don Milani uguale i Don Milani non sono morti negli anni 50 e 60 noi pedagogisti bravi ce l'abbiamo ancora oggi perché non li ascoltiamo dicono tutti quello che dico io io sono banale per loro lo so benissimo però così banale che non lo facciamo torno a dire cosa facciamo con 4 miliardi le scale antincendio perché l'ho già sentito il ministero facciamo le scale antincendio perché qualcuno ci avrà il genere che stranamente fa una ditta per scale antincendio immagino che sia questo il motivo perché scusa ti viene un'idea superiore o no non ce l'ho con le scale antincendio però possiamo pensare anche a qualcosa di più complicato posso dire qualcosa che vi interessa ah Valentina a 16 anni 36 chili che non c'ha le mestruazioni da quel dì cosa gli dai ditemelo cosa gli date in Trentino la mandate giù nel Garda nella famosa clinica perché mette una flebo di glucosata sopra il braccio ma siete cattivi dategli un teatro dategli un senso a quel corpo sofferto mettetela qui ci vuole tanto non ci vuole niente anche un gruppo di volontari bravissimi si mettono con una chitarra si inventano delle storie non goldoni storie le tue storie la tua sofferenza le tue frustrazioni la tua felicità complicato anche questo e allora ditemi cosa è facile niente non facciamo niente dai facciamo niente così siamo più tranquilli io non so qua per dire stiamo tranquilli io voglio irritarvi perché io sono scomodo sono contento di essere scomodo perché a forza di stare comodi sul divano ci siamo rimbecilliti e allora occorrono idee nuove fuori del comune cose mai viste perché se no scusa eh Colombo se no andava da Genova a finale Ligure no se volia star comodo la scuola dovrebbe avere delle materie io l'ho detto da tre o quattro ministri ma è stato totalmente inutile io ho detto dentro una una pagella ci devono essere tre materie fondamentali più più importanti di qualsiasi altra cosa stima di sé ha un grado di autonomia e creatività se non hai queste tre cose non vai da nessuna parte nella vita impossibile perché sarai sempre ricattato sarai sempre dipendente dal giudizio degli altri temerai il giudizio degli altri e quando temi sempre solo il giudizio degli altri alla fine non dibutti mai il giudizio degli altri è importante può essere anche strategico certe volte ma poi torni a letto tu da sola e tu devi dire a te stessa io cosa faccio vedi adesso ti racconto una cosa una ragazza l'altro giorno è venuta da me è una che viene ogni tanto quando ha qualche paturnia e mi raccontava nel fidanzato e me ne parlava male di sto fidanzato e alla fine ha detto sa lui non lo sa ma è già morto poi a reto gli ho detto dico ma perché ma per una serie di cose e poi dice guardi anche ieri sera siamo stati a cena mi ha fatto delle domande che mi ha fatto di nervosire dico me ne dici una guardi una gliela dico subito perché me la ricordo bene mi ha chiesto così a brucia pelo ma che cos'è che ti farebbe alzare domani mattina un'ora prima e io ho detto scomento che lei non ha risposto ma neanche per sogno mi fa e io ho detto guardi posso dare un consiglio se tenga sto fidanzato l'altro tre o quattro settimane perché lei fa bene perché l'ha beccata giusta lei non ha una passione è grave c'ha 31 anni sta ragazza è grave gravissimo ditemi quale crisi familiare c'è perché un figlio non ha una passione saremo tutti da da manicomio perché ma perché perché semplicemente non è una domanda all'ordine del giorno e invece è fondamentale cos'è che ti fa svegliare domani un'ora prima e se non rispondete a questo guardate che nella nostra vita io io ho conosciuto maestri che mi hanno fatto svegliare ma non perché me lo dicevano non perché me lo ordinavano ma perché non vedevo l'ora io che fosse l'alba perché era l'alba di un bel giorno comunque faticoso incerto tutto quello che ti pare tu ce l'hai dentro questa cosa questo è bello non so come andrà a finire perché non faccio il mago però i fondamentali non te lo dico perché sei qua se tu non fossi stata qua lei avrei detto a lei quindi io dico quello che penso sai quindi ti dico questo penso che tu abbia i fondamentali poi non so se devi fare sempre questa roba qua perché poi c'è anche un'evoluzione nella vita per cui fai delle cose adesso che c'hai sei molto giovane fai più avanti avrai delle ambizioni spero per te tu lo sai che in un liceo un ragazzo mi ha detto secondo lei l'ambizione è una patologia io gli ho detto ma chi te l'ha detto una roba del genere l'ho sentita in casa io gli ho detto guarda quanti anni hai ho fatto 18 anni sei mesi fa ah dico perfetto stasera fatti lo zainetto e scappa va via perché se tu non hai un'ambizione non capisci cosa voglio dire l'ambizione vuoi tentare ti sbatti la testa e vabbè ti metterai sto cerotto capisci però devi avere devi morire di ambizioni non è buttare le cose mio nonno mi ha sempre detto sempre me lo diceva sempre erano artisti però avevano una bella testa dicevano non buttare sempre il cappello sulla tacca panni buttalo anche oltre io non capivo perché ero bambino capivo però me lo sono segnato questa roba qua perché ho detto un giorno non la capirò infatti qualche anno dopo ho capito bene cosa voleva dire che è difficile è anche frustrante perché a volte la paghi quell'ambizione perché magari è anche un po' eccessiva però meglio pagare un'ambizione che morire in una in una in una melassa capisci perché ti diranno diecimila volte che nella vita ci sono tante tempeste però pochi maestri ti diranno che il pericolo sono le bonacce e la bonaccia è il pericolo tuo per tutti noi è stato un pericolo quindi cerca anche una tempesta perdi laceri una una vela la rifai ti preoccupare basta che sei saldo al timone la tua barca deve essere salda allora viaggerai bene non devi viaggiare costa a costa quello che fanno i cretini noi la nostra vita è attraversare noi dobbiamo tu devi c'hai un obbligo nella vita essere una cacciatrice di orizzonti quello che sia che intendi tu per l'orizzonte è tuo va benissimo ma deve essere un orizzonte e farai fatica avrai le tue giornate difficili ma proprio da quelle da quelle giornate poi sai in Giappone cosa dicono che la vita è cadere sette volte e rialzarsi otto questo è bellissimo lo dicono è un vecchio detto giapponese molto saggio i giapponesi i vecchi sono molto saggi quelli nuovi sono imbrattati dalla tecnologia capiscono un po' meno però è interessante stai attenta alle tecnologie le tecnologie sono uno strumento non è un fine stai attenta utilizzarle però utilizza di più il tuo cervello questa è una cosa che voi ragazzi dovete capire molto bene noi abbiamo fatto un pezzo di vita senza nessuna tecnologia quindi sappiamo com'è la vita sappiamo cosa vuol dire affrontare una persona darsi un appuntamento sapere che è anche difficile dirsi delle cose in faccia voi avete Whatsapp l'amfregato non stai a mandare le cose per il tuo cuoricino diglielo al tuo fidanzato al tuo amoroso quello che ti piace quello che sarà diglielo ci vediamo al bar Roma e facciamo prima te lo dico è bellissimo c'è anche una realtà oltre alla virtualità bisogna ricordarsi questa cosa usa il tuo cervello è bellissimo e non è un oggetto da comodino tante volte a forza di delegare la tua testa ad una macchina tu tu lavori con le macchine ma sei tu che le comandi e la tecnologia tende a comandare te e allora quella è la battaglia non è buttar via la tecnologia dalla finestra per carità tutto quello che è buono va usato un po' di pochino io da ragazzo ogni volta che passavo il pop mi pareva di andare in uno stato straniero quindi voi andate a Berlino a Parigi a Cordo investi in queste cose appena guadagni in quelle cose investi in futuro capisci cosa vuol dire investire in futuro vuol dire incontrare la gente incontrare dei ragazzi delle ragazze come te che hanno fatto un'altra vita e magari scopri che c'è anche qualcuno che è venuto dalla miseria del mondo ed è più bravo di te e allora cominci a dire porca miseria e io tu ce la farai perché quello te l'ha insegnato grazie a tutti